ciao ragazzi vi volevo rubare solo 30 secondi prima dell'inizio del video per dirvi di guardarlo fino alla fine perché praticamente ci saranno notizie molto molto interessanti riguardanti alcuni giochi ma soprattutto ci saranno delle notizie per quanto riguarda tutte le novità sul canale quindi mi raccomando non perdertelo questo video mi raccomando ciao ragazzi benvenuti di nuovo allora ci sono tutta una serie di notizie che voglio dare quindi cominciarei subito dalla prima prima bellissima notizia per tutti noi che giochiamo a gta 5 finalmente rockstar ha rilasciato la data di uscita per le nuove console quindi xbox one ps4 e pc molto bene benissimo quindi siamo tutti pronti a giocare il 18 novembre per xbox one e per ps4 stai fermo tu stai fermo non mi fa la ricorda guarda che te vedo quindi in questa nuova versione di gta ci saranno molte migliorie tra le quali possiamo dire che ci saranno nuove attività ci saranno dei miglioramenti di vario genere grazie alla possibilità che le console di nuova generazione possono dare quindi ci saranno più traffico più pedoni ci sarà molta nuova vegetazione con più erba che renderà le strade soprattutto di blind county e dei paesaggi fuori la fuori los santos ancora più realistici in generale le texture saranno più dettagliate ci saranno nuovi effetti climatici rockstar ha annunciato anche che farà qualche piccola implementazione anche per la vecchia generazione quindi per chi gioca ancora su xbox 360 e ps3 ad esempio verrà aggiunto un nuovo idrovolante che sarà chiamato dodo e poi un'altra auto classica della serie gta che si chiamerà dukes ci sarà anche una nuova versione del dirigibile blimp e per tutti quelli che giocano con pc per tutti quelli che giocano con pc purtroppo la data è il 27 gennaio 2015 non chiedermi perché non te lo so dire veramente bene nel senso che lo so così ha una mia idea ma non lo so veramente bene quindi non mi chiedere perché non lo so io so solo che rockstar ha rilasciato un altro comunicato che vi leggo testualmente siamo molto entusiasti dell'arrivo di gta 5 anche su pc ma il gioco richiede un altro po di tempo nello sviluppo affinché possiamo accertarci che tale versione possa essere fantastica e tirata lucido il più possibile infatti questa versione avrà il supporto delle mod nb series che praticamente sono le famose mod che hanno reso particolare gta 4 gta sant'andreas e che praticamente hanno anche aiutato a dare più profondità di campo e altri particolari effetti per abbellire appunto un gioco ed hanno aiutato come dicevo anche giochi come deus ex revolution skyrim e tanti altri giochi queste erano le notizie relative a gta 5 che ci rende tutti veramente molto felici quindi adesso passiamo a quelle che vogliono essere le novità sul canale prima di tutto volevo dirvi e suggerirvi caldamente di mettere un bel mi piace alla pagina facebook del canale ragazzi nella pagina facebook possiamo incontrarci possiamo parlare possiamo condividere insieme delle cose parlarci e interagire quello è il modo più veloce con la quale lo possiamo fare lì potrete trovare tutte le notizie riguardanti al canale le anteprime dei video le novità in arrivo le notizie sui videogiochi in uscita in entrata in entrata al canale intendo dire tu come la vedi a proposito di tu come la vedi avevo pensato di fare dei vlog con una cadenza che ancora non te lo so dire moce penso in fatto di videogiochi tu come la vedi e mi fate sapere voi come la vedete e io ti dico io come la vedo nel senso che tu come la vedi e io come la vero chiaro è un po difficile secondo me è un po difficile che capiscano ma non per non è colpa loro è perché secondo me è su io che c'ho grossa crisi e vado a dentone un po poi vorrei fare questi benedetti io non li posso chiamare così ragazzi ma come faccio altre bande così dai non si chiamano così facchi utai ma cosa sono i facchi utai se io dovessi ma scusa scusa se io dovessi fare un facchi utai non lo posso fare qua davanti e perché poi diventa abitato è minore non si può fare e scusa ma volevo fare domande e risposta perché noi siamo in italia ragazzi cioè noi siamo su youtube italia allora forse sarebbe meglio che parliamo italiana tu come la vedi nel senso che se proprio proprio vogliamo fare gli esterofidi fighi allora non chiamiamolo fa chi utai ma anche se così fa molto figo e fa ridere anzi soprattutto fa ridere fa veramente ridere perché si chiamano q a casomai question and answer che tradotto in italiano vuol dire domande e risposta quindi io farò di domande e risposta nei commenti sotto cominciate a farmi le domande che più pensate che più volete tipo dove sono finiti i tuoi capelli e minchia lo sapessi te lo direi volendieri tipo che ne so ma perché dici tu come la vedi e io ti risponderò se no ma per dire fatemi tutte le domande che volete tutto quello che vi passa nella testa ok cominciate a farlo nella pagina facebook nei commenti non dote pare poi vediamo se riusciamo un attimino a fare questo faccio time faccio time are you fucking series vabbè se lo dobbiamo chiamare così lo chiameremo così però io non lo vedo veramente bene quindi queste sono alcune delle piccole novità poi farò con amico youtuber faremo insieme una live di prova siccome non siamo molto abituati a fare le cose dal vivo allora cercheremo di imparare faremo una live di prova in anticipo questa alla live che volevo fare alle uscite dei giochi cioè all'uscita di qualche gioco molto interessante che ne so ti posso dire un titolo per esempio alien isolation piuttosto che the evil within casomai volevo farli in diretta con voi giocarli in diretta con voi nel senso che io gioco e tu guardi e mi dici annubo annubo ma come stai a gioca e queste sono alcune delle piccole novità che potrete trovare sul canale il video adesso finisce qua proprio a questo punto tu come la vedi è così e se anche non la vedi veramente bene e video finisce così visto che il video finisce qua adesso tu potresti fare una cosa metti un bel mi piace a questo video anche se non ti piace e tanto non ti costa nulla scusa schiacci un pulsantino voglio dire non è che sia una roba così difficile metti un mi piace iscriviti al canale se non ti sei ancora iscritto va bene e condividi questo video e poi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di tutte queste cose che ho per la per la per la cabessa che ho per la testa che girano come la vedete faccio bene faccio male io le voglio fare quindi mi piacerebbe fare un fuck you time un domanda e risposta un fuck your sister che potrebbe essere una bella idea fatemi sapere cosa ne pensate ci vediamo alla prossima ciao oh come lo giriamo questo video perché boh non so c'è un po' di idee vediamo un po' così come da un cazzo what così così molto sexy ragazzi molto sexy così avevo pensato di fare un gameplay così però poi dopo c'è il problema con le cuffie ho provato le cuffie non c'è storia non ci sta andrà come possiamo fare le cuffie non ci boh o così o così molto gasta tu come la vedi così no no che quanto la farò io che vince un cazzo no lascia stare shhh se mi vede mia figlia sono morto no 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 Grazie.